Ragazzi, purtroppo siamo ancora qui a protestare perché i punti che abbiamo portato in piazza alla manifestazione del 15 giugno erano stati accolti tutti, quindi nel giro di una settimana avrebbero risolto tutti e quattro i problemi che avevamo posto. Niente, sono passati dal 15 luglio 17 giorni e adesso ci stanno proponendo dei tavoli di lavoro per quanto riguarda il provi e l'assegno di cura, quindi inizialmente in una settimana facciamo tutto e adesso ci stanno proponendo dei tavoli di lavoro fra 15 giorni. Poi per quanto riguarda le problematiche sanitarie, l'infermieristica al momento non è stata ancora toccata, quindi c'è sempre carenza di infermiere al domicilio degli ammalati gravi. Poi per quanto riguarda gli ausili, hanno fatto qualche cosina, ma hanno anche abbassato il tetto di spesa del 20% rispetto alle altre province, quindi non ci siamo proprio, ci hanno presi in giro e quindi noi venerdì 9 luglio saremo di nuovo a lungomare a protestare. Nostro malgrado, sembra che noi non abbiamo niente da fare, malgrado messaggi, telefonate, all'assessore al welfare, ad Emiliano stesso, ma niente, 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 veramente è deprimente e vergognoso il comportamento che stanno avendo le istituzioni nei confronti dei disabili. Ripeto, parliamo di disabili, non parliamo di persone normodotate che possono in qualche maniera gestirsi a prescindere, qui si fa risparmiare su un carrozzino non idoneo, creando ulteriori problemi a chi lo usa, anziché aiutarlo si creano ulteriori problemi, quindi altri danni, altri problemi che si aggiungono ai problemi, ma basta, basta, vergognatevi politici, dovete vergognarvi politici e burocrati, basta, finitela di giocare con noi, fateci vivere almeno un po' serenamente all'esterno, visto che a casa abbiamo mille problemi e mille difficoltà, fateci vivere almeno tranquilli e dateci ciò che ci spetta.